Ragazzi, per perdonarci che abbiamo per sbaglio eliminato la carriera giocatore con l'Udinese, faremo la carriera difensore con il Sassuolo. Oh le le, oh la la, Sassuolo qua, Sassuolo là. Sono la difensore del Sassuolo, faremo il primo video dove faremo soltanto una partita e gg. E le lamenti mettiamo di dopo. No, mamma, mamma. Se ne mettevo troppo tempo. Avemo 15 anni ancora, bello. Vabbè. Sassuolo, vabbè. Sassuolo, colonia. No, vabbè. È baggato perché a 15 anni non puoi giocare. No, non so, allora vai. Che bagga. La maglietta bella. No, no, questo, questo. Guarda quanto sul figo. Per tradizzo, 66. Eh. Ma di solito nelle carriere si inizia a 67. Ah, vabbè. De Frel sotto l'avversario. De Frel. Gol meraviglioso. Vediamo che vinto. Eh, sono stato l'avversario, signori. No. Eh, vince. Eh, vince. Eh, c'è il diritto bene. Eh, è vinto perché non ho fatto in fronte. Allora, apriamo le L. Ah, no, è vero. Le L, le L, le L, una non serve un cazzo. Frequenze di S. Vallo, guardo solo. S. La linea con il difensore. No, qua no. Nostra linea con il difensore. No, qua no. Cazzo vai a me. Vai vai, giocola. Vado dietro. Da subito. Si affrontano. Anche emozione. E' bene e bello. Questo anche va. E' la loro prima partita. Vediamo. Vai vai. Che piedino. Bravo. Di questi tornei. Però spesso sono venuti anche da solo. C'è no, no. in l'area di cori. Provi. E' caldo se è sacco. Pure il difensore mio. Ma dove c'è stato il difensore? Vabbè. Non ho mai fatto una carriera col Sassuolo io. Tu? No. Oddio. Ma ho proprio nel fortiere. La palla entra in porta. Ma c'è il vantaggio. Oh. Oh. Guarda, se vuole è bello stare lì. Non è bello fare il difensore. In me c'è un sacco. Poi ho fatto pure il pro club che ho fatto. Odo Stalina, vero, vero. Ok. Questa posizione. Schiri. Guarda metri verso l'area. Eh, eh, eh. Tanto, tua. Non fare le pappele. Bravo. Sto è bravo però. Ci sta. Sto sì, 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 è fatto bene. È stato bravo l'attaccante. È stato bravo l'attaccante. Vai, allargati. Si deve allargare, non devi veniremi addosso. Che palla. E io, ma che faccio il gendrocampista. Non è visto che mi mette mediano, no? Non so fare l'assaggio. C'è un bel passaggio. Ehi. Ehi. Il lancio. Fuori, no? Frigiano. No, no, è buono. Vai, 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 vai. Ma davanti a me, perché si è fermato. Bravo. Uh, che si è un'obbligata. Concedendo il male di Marco a questa qua. Quindi, Marco a perciò. Deve fare un taglio al centro perché sarà un taglio al centro. È in buona posizione. C'è un'obbligata. C'è un'obbligata a me. Vai. Eh, mi ha preso. Bravo. Che risponde. Uh, va, 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 va. Non mi piace vedere bene la porta. Non l'avevo mai provato a berardi su FIFA 20. Eh, faccio la vera che giusta me la ho già troppo profondo. È tua. Tu l'avevi mai provato. Ripartenza da sopra. Qua, ci sto io, eh, sono largato, bene. Stancho accompagna l'azione. Va bene. Bravo. C'è il tocco sulla fassa. Avevo visto. Qua, la maggior parte dei quali farei tu, la giocata morale. Dove vorrei fare due, la maggior parte. Qua, la maggior parte dei quali dovrai fare tu, perché. Sono diventato bene. Tu non... C'è un grande problema per questo tipo di questo tipo di scocciare un po' però. Ah, ma ne ha mi scorgi, non mi piace. Eh, vabbè, qua non è tutto lento. No, ma tu già la stagione, lo benissimo. Ah, perché hai preso? Sembrava battuto. Mi marco a questo qua. Non, non passi, ne capite? Poteva fare meglio qui. No, qua, so scattato. Vai, no, 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 che cosa. Giochevola con caldo. Torno, torno. Marlo è Locatelli. O Pia. Locatelli che potrebbe essere un aiuto. Non penso. De prete. No, catele allo sasto fatto, vero? Sì. Perché le tonali ce le ho preso in interno. Trento, le ho ancora non è confermato ma al 99%. Sì, no, del dubbio. Sì, ma no, non entra, non entra, no, non entra, no, non entra. Eccolo, non c'è, sì, sì, c'è, sì. 5 minuti mello su una c'è della tush la rimessa laterale strette tettestrette ttpc c'è il fuk uo piatelo la fascia e guazzo trigo perché sto no, che cosa fa, fallo, vado arrivo a intervento dell'armo di punizione ai giochiamola ai aiii 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 la chisura qui sei qua facciamo un attimo share play aspettate un attimo vai ma marco fa il trainer, fa il trainer no, non ce l'ho più il trainer ah, ce l'ho oh, va, va, eh come sto giocando vai che posta beh, vediamo un po' quanto lo trovo non ho visto 6.2 non ho avuto così, capito ha spazio per avanzare comunque, così che gioco bene non sapete perché aprire la scatola si diceva ma è ma è ma mica il gioco per il comunicato la prima puntata con l'altra cosa no ok che boll che boll vabbè mi sono distratto mamma mia bo no 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 ti vuoi portiere oddio ora sei impegnato per farlo vai hai visto facci impegnare la gente eh poi c'erro di gara prendeva col dito c'è che trova il compagno ho solo i giochi ci sto anch'io eh vai salgo no scherzo 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 fermo che sono chiuso non posso fare niente si sono messi in difesa stranze la ragazza di sindicato che può essere in 5 mesi per rafforzare la formazione il cento il cdc la società fregando le mani pensando quanto potrebbe incassare possibile eccessione ammesso che ti incido di farlo partire ci sarà una sostituzione no siamo con 20 ore vai eh un po' la testa storto però ci sta dai oh oh eh non ti da chiusura sei punto due dai 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 ma un calcio d'angolo ce lo pigliamo vediamo cosa fa ora eh non abbiamo fatto niente l'attacco vai vai iiii 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 l'attaccante di portita iiii oh oh bravo oh non mi ha tirato ho tirato io dai non mi ha tirato e che palle però c'è l'azione che faccio niente 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 buona posizione ottima la lettura no se possiamo tutto ha recuperato il pallone per quanto però mi piace il sassuolo come squadra rai posso essere dietro dietro ah no pallone invitante maraglia metri aiiii nooo dai era partito alla spazzata via azione che sfuma vai 1 a 0 ci sarà rimessa laterale da buona posizione i miei tutti una bocca al gol dai questa è una buona finale finale non a 0 direi che ha tenuto fede alle aspettative con una buona prestazione boom tieni vai vai ciccio francesco ma riapri anzi no ma rencia esulta cosiii l'arriamo 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 caputo l'arriamo per la vittoria goooool vai fino in fondo e c'è andato e il dato sul possesso palla dimostra l'equilibrio che regna su questo match mi piace cos'hai fatto mi piace l'atteggiamento pro positivo messo in campo dalle due squadre vai salgo ma non salire stiamo pregiando ah beh migliori difese non ho un salgo venire vai ma chi è che sei sei lento questo non mi sembra una sanzione a sulla punizione posso salire termetto scomposto questo è ma non è una punizione da salire vedete evidenzia è vero amore è arrivato il cartellino giallo per lui sensazione che se lo aspettasse pierre no l'ho tirata male scoperta sicuro tirata male sorry sorry man vai è tutto offensivo dobbiamo vincere allora salgo anche io sto segui la linea di difensione cazzo 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 ahi pure in angolo allora in gioco attenzione pure in angolo il portiere la deve buttare non è che decide io cazzo metterci vai apre il gioco oh tua no attenzione che ti riparte bravi l'hai tenuto no no ci si fatti sicurare no fra colpa tua perchè è mancato il contrasto mi sono andato dall'altra parte guarda mi stava in contrasto non ce l'ho la piglia scusa ho sbagliato per me a farlo però contro il corona non dobbiamo perdere eh dai fammela fare col corona che è il corona colonna 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 la musica 6.9 aspetta abbiamo fai gli allenamenti prima di chiudere wow butta perdita 6.9 6.9 6.9 modello verso madonna però abbiamo sempre i gironi edifici di me per la squadra che abbiamo o no 6 giusto giusto osservate poca sui passaggi giusto poi come se possiamo fare pure sui tiri dai ci alleniamo un po' no ancora passaggi cross è meglio passaggi nei secoli calci piazzati i calci di riguardo ciò è un po' ma vabbè ragazzi questo è il primo episodio che è divertente questa carriera mi sta piacendo bellissima 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 è è